Padovano, si torna a parlare di questa barriera anti-inquinamento, evidentemente però andranno fatti degli approfondimenti, bisognerà vedere bene questo progetto? Il progetto è nella fase iniziale dell'embrione, è stato presentato uno straccio di preliminare. Per mettere in piedi questa progettazione c'è bisogno di fare uno studio più approfondito delle correnti. E non parlo delle correnti marine, ma delle correnti che poi servono alla navigazione dei porti. E' chiaro che se questo progetto dovesse essere calato sull'area portuale, spetta al comandante della cabina di porto dare l'ultimo parere favorevole. Chiaramente da questa mattina sono iniziati gli studi per approfondire la tematica, poi noi stiamo cercando di metterci la faccia e di fare il meglio per la nostra città. Stiamo parlando di una barriera galleggiante che si usa in tutto il mondo, quando c'è uno sversamento di idrocarburi, per contenere che idrocarburi arrivino sotto la costa, questo sistema serve per non danneggiare l'ecosistema marino. In questo caso non stiamo parlando di idrocarburi, ma stiamo parlando dell'acqua del fiume Pescara, stiamo cercando di portarla più lontano possibile dalla diga. Stiamo parlando di una barriera galleggiante.